Bisogna sempre cercare qual è la via più semplice per risparmiare il tempo. Perché anche quelli sono soldi. Mi è piaciuta una cosa che hai detto prima, nel senso che sia il cliente che l'artista deve passare un'esperienza quando passa un giorno di videoclip, eccetera. Ma raccontaci un po' la differenza di esperienza che magari puoi far passare a un artista grandissimo, un GX, un Marrakesh, un Fedez, e magari cosa cambia con gli artisti emergenti? Che prima dicevi che cambia. Li bacchetti un po' gli artisti emergenti, li tieni in riga perché magari vogliono... Assolutamente sì, sì, no, no, assolutamente sì. Torniamo sempre al discorso che loro devono comunque fidarsi. E quindi quando mi capita, quando gli dico qualcosa, sì, ok, hai ragione. Cioè sono loro che vengono d'Ali, ma secondo te la faccio così o la faccio così? Che devo fare? Com'è meglio? Cioè sono proprio loro che vengono perché molto spesso è magari il primo videoclip o è il primo videoclip che fanno in un certo modo con un certo tipo di persone davanti. E quindi si portano, cioè vedono verso di me comunque la persona che ha sicuramente più esperienza di loro in quell'ambito e quindi cercano di trovare conforto e cercare le risposte per quale cosa sia meglio fare. Invece magari Big queste risposte data professionalità ce le hanno un po' di più o restano anche loro in ogni videoclip che vogliono... Guarda, c'è sempre il discorso che loro si fidano, se tu stai lavorando lì con loro è perché loro si fidano di te, perché se no avrebbero chiamato un'altra persona. Quindi comunque, a prescindere che siano persone che sono più famose di te, sono più grandi di te, che hanno più esperienze di te, però comunque loro fanno i cantanti, non fanno i registi, non fanno i filmmaker, non fanno i dettori della fotografia. Quindi si affidano completamente al tuo lavoro, alla tua esperienza, perché tu sai quello che stai facendo. Cioè magari per loro può essere giusto un'altra cosa, però comunque la visione di chi effettivamente sa farla, quella cosa conta tantissimo. Magari gli emergenti devono ancora imparare a fidarsi di questa cosa, è una domanda che faccio. Guarda, a me non è mai successo. Sarà appunto perché quando magari lavori con me, ti ritrovi davanti, quello che dicevo prima, una, lo dico senza peri sulla lingua, una professionalità che di solito per un artista emergente non la vedi. Cioè il regista o il videomaker che ti manda il piano di produzione prima delle riprese, io di tutte quante le persone con cui ho parlato, cioè gli artisti quando lavorano con me, prima non lavorate con qualcun altro. Ah ma pure questo facciamo. Ah ma pure questo. Ah ma stai andando a vedere location. Ah ma quindi mi stai mandando le foto mentre stai facendo. C'è un rapporto che si crea per cui loro, tra virgolette, abbassano la cresta, ma perché comunque riconoscono che quello che stanno facendo lo stanno facendo con una persona che sa quello che gli sta facendo fare, insomma. Assolutamente. Quindi se tu ti poni con professionalità non ci sarà pericolo. Assolutamente sì, però porsi con professionalità non vuol dire porsi, cioè non vuol dire farla antipatico, non vuol dire sono io e tu non sei nessuno, capito? È sempre, cioè è portare, io porto quello che ho imparato e che continuo a imparare sulle cose, sui lavori major, lo riporto nel piccolo. E questa è l'esperienza che io cerco di far vivere agli artisti con cui collaboro. Assolutamente, grazie. Beh, ho visto che c'è qualche domanda tecnica, te le lascio volentieri. Grazie. Grazie. Grazie.